E senti, adesso non posso parlare, ti chiamo io stasera, eh? Ciao. Problemi sul lavoro? No, no, non ti preoccupare. Ottimismo, Silvia, ottimismo. Che schifo! Porca trotta! Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Mi sono spacciato per disabile. Bene, non voglio disturbarla ulteriormente. Vai, arrivederci. Licenziato, trasferito. Al sud, al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ci resterai due anni. Due anni? Oh mia bella madunina, che tebrile te lontano. Perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caldo. Prima la posta la portavano i cammini. Poi il direttore erano badwill. Che fa voi, mi pigliavi il culo. Mi hanno mandato, apposta per farvi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di snaffa d'alina. Che mia mamma la mette ovunque. Ma perché ci sono i topi? Eh, topini saranno. Il nono i topi è tanto. La vivono qui? No, si hanno fettato monologale a fianco. E tu? Quella è cioccolata, mischia dal sangue di maiale. Ma vederli così sembrano normali. Io, viva! In realtà sono scuri, piccoli, tracagnoti. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che le palle, scappano. Non mi costringo a metterle una nota a disciplinare. Quanto mani va a uso. Non farei temerare come il tuo solito, eh. Direttore! 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 S'ha finito, eh! S'ha finito! Non capitate paura, direttore. Vogliamo fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meraviglioso. Quanto è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Che si fa stasera? Abbiamo organizzato niente? Direttore! È venerdì. Non tornate a casa. Direttore quando un forestiero viene al sud e piange due volte. Quando arriva è quando parte. Io adoro in su! Io domani vengo lì da te. No! Non puoi venire da me. È pericolosissimo. No! Grazie a tutti!